Sono circa 7.000 in provincia di Arezzo le badanti assunte con regolare contratto di lavoro. Anche per loro, come del resto per le babysitter o i collaboratori domestici, dal 15 di ottobre sarà obbligatorio il Green Pass per poter lavorare. Per molti di questi lavoratori però potrebbe aprirsi una fase di limbo molto pericolosa. La maggior parte sono lavoratori extracomunitari che si sono vaccinati nel loro paese di origine. Non tutti i vaccini però sono riconosciuti dall'EMA come validi ai fini del Green Pass e quindi, paradossalmente, pur essendo vaccinati dovranno eseguire un tampone per poter lavorare. Allora, se hanno fatto i vaccini che sono riconosciuti dalle nostre autorità sanitarie, quindi da EMA e AIFA, non c'è nessun problema, possono registrare la vaccinazione, il vaccino effettuato e avranno il Green Pass. Il problema sorge per quelli che hanno fatto delle vaccinazioni che non sono state ancora riconosciute dalle nostre autorità sanitarie. Parlo di vaccini, faccio un esempio, tipo Sinopharm oppure Sputnik, ad esempio, ancora non sono stati riconosciuti, per cui questi cittadini hanno difficoltà ad avere il Green Pass perché in realtà non possono essere sottoposti ad un'altra vaccinazione con i nostri vaccini perché hanno già effettuato due dosi di un altro vaccino e questi vaccini non possono essere registrati per ottenere il Green Pass. Insomma, è una sorta di limbo? Si trovano in una sorta di limbo, diciamo, quindi l'unico modo che loro hanno per poter in questo modo, cioè in questo momento, accedere a tutti i servizi è fare il tampone, purtroppo. in attesa che l'AIFA e l'EMA autorizzino anche queste vaccinazioni.